Ancora un colpo a favore dei cittadini messo a segno dalla giustizia italiana nei confronti dell'ASL Napoli 2 Nord nella vicenda della struttura Villa Stefania a Casa Micciola. Nella giornata di ieri infatti il presidente della sesta sezione del Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta avanzata dall'ASL di misure cautelari provvisorie per la riforma dell'ordinanza del TAR Campania con la quale si ordinava il ripristino della destinazione d'uso dell'ex albergo con la cessazione immediata dell'attività sanitaria che vi è stata avviata nel frattempo. Tra i rilievi difensivi formulati negli scritti depositati nell'interesse del Vescovo di Ischia e dei comuni di Barano Ischia alla Convene Serana Fontana l'avvocato Bruno Boninaro aveva riportato i tratti salienti della vicenda. Il complesso alberghiero Villa Stefania è stato trasformato dall'ASL per giunta in assenza dei prescritti titoli abilitativi così come accertato e contestato dal comune di Casa Micciola in una unità operativa complessa di salute mentale con conseguente illegittimo mutamento della sua originaria destinazione d'uso a struttura turistico ricettiva. Le opere che sono state realizzate nella struttura sono opere additive che interessano un immobile di rilevanti dimensioni già di per sé abusivo come comprovato dal fatto che lo stesso è oggetto di domanda di condono non ancora esaminata. Ed è noto che sugli immobili per i quali pende domanda di condono sono ammissibili soltanto interventi di tipo conservativo al fine di consentirne la commerciabilità ai sensi dell'articolo 40 della legge 47 dell'85. In nessun caso possono essere eseguiti su tali immobili interventi di tipo innovativo come si è verificato invece nel caso di specie. Ancora più grave il fatto che come riconosciuto anche dal servizio attività produttive del comune di Casa Micciola l'immobile in questione è tuttora sprovvisto di certificazione di agibilità e la cosa appare a dir poco sorprendente se sol si considera che ad usufruirne è addirittura un'azienda sanitaria organismo di indubbia valenza pubblicistica per gli obiettivi istituzionalmente perseguiti. Alcun pericolo di danno grave e irreparabile poteva sussistere in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati sia in primo grado che in appello atteso che l'ASL dispone ancora oggi non risultando risolto il relativo contratto di locazione dell'immobile di Villa Orizzonte di Barano. Una annotazione finale il comune di Casa Micciola avrebbe già potuto e dovuto dare esecuzione prima ancora della notifica dell'appello al Consiglio di Stato alle proprie legittime ordinanze di ripristino dello Stato dei luoghi e di cessazione di attività. Il presidente Severini della sesta sezione del Consiglio di Stato ha fissato quindi la Camera di Consiglio per la discussione del ricorso per il prossimo 18 novembre.